Il Molino Gaetano Roccasab è presente sul territorio dal 1965. Oggi l'azienda costituisce una delle realtà industriali più importanti nel campo della molitura del grano duro, avvalendosi delle maggiori e moderne tecnologie in uso nel settore molitorio. Il Molino Gaetano Roccasalva seleziona le migliori materie prime presenti sul mercato nazionale e i grani più pregiati provenienti dall'estero attraverso rigorosi controlli qualitativi e igienico-sanitari. Tutti i prodotti sono in possesso delle seguenti certificazioni. IFS BioAgricert La rinomata affidabilità qualitativa e la varietà delle semole, l'elevata capacità di stoccaggio delle merci e la professionalità di un personale esperto e competente conferiscono al Molino Gaetano Roccasalva un ruolo d'avanguardia e di primaria importanza nel settore della lavorazione del grano duro. La rinomata affidabilità qualitativa e di primaria importanza nel settore dell'estero attraverso